Lasciate un like, un commento, scusate per la voce, sono raffreddatissimo Iniziamo un nuovo video, ricordo di lasciare un like, un commento e ci vediamo In questo nuovo video, operazioni di strabattaggio, ok Ragazzi facciamo questo nuovo video, una missione e altre cose belle Poi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciare un like, i commenti e la campanella Andate in una chiesa, hanno un bel po' di scorta Andiamo su Siamo lieti di annunciare che ora il 70% della nostra elettricità Proviene da fonti rinnovabili Grazie a tutti per aver sostenuto l'iniziativa, continuiamo così Iniziamo 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 giustica giustica, giustica 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 a parte arrossiamo quella pezza è fatta, ce l'abbiamo fatta ora dopo possiamo andarci a fare quella pezza rilevati i ostici in arrivo merda sono secco con questo mi divertirò rilevati au chiave d'accesso rilevata teniamolo al sicuro un pochettino tranne corso un pochettino שותi aspettino portaggio Sì? 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 Urla! Urla! Andate!